Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Sergio Merletti, trader e analista tecnico certificato. Oggi ti voglio parlare dell'importanza del mestiere dell'analista tecnico. Lo so, lo so, te ne ho già parlato in un video precedente, lo abbiamo visto dal punto di vista con i dati statistici alla mano, di quanto si può guadagnare facendo l'analista tecnico, gli sbocchi lavorativi. Bene, oggi lo voglio fare in un modo diverso dal solito perché è importante che non sia solo un docente, un formatore o comunque io stesso che ti parlo dell'essere di quanto è importante la formazione in una persona che magari vuole approcciare al mercato finanziario, ma è importante che magari sia proprio una persona stessa, ascoltare un'altra campana di una persona a cui effettivamente è cambiata completamente la vita o comunque l'approccio al mercato finanziario. Oggi lo voglio fare portandoti un caso reale, un nostro ex studente della Masterclass, peraltro ti lascio il link in descrizione, puoi vedere e candidarti appunto per l'iscrizione alla Masterclass, il nostro percorso professionale da zero a analista tecnico professionale. Ti porto quindi il caso di Andrea che ti racconterà il suo approccio iniziale sul mercato, quello che era prima di incominciare la parte formativa della formazione, quello che è stato durante e quello che è stato dopo e il livello di serenità, oltre che naturalmente crescita finanziaria, che ha raggiunto grazie alla formazione. Non ti rubo altro tempo, goditi la testimonianza. Ciao Andrea, benvenuto e grazie del tuo tempo. Ciao Sergio, grazie dell'invito, è un piacere che ho accettato questo invito. Andrea, quello che ti voglio chiedere è che cos'è che ha fatto scattare dentro di te la molla per iniziare un percorso formativo strutturato e molto importante come la Masterclass di analista tecnico e che cosa è cambiato nel momento in cui hai iniziato a fare la formazione e quali sono le cose principali che hai capito e che sono state per te fondamentali che ti hanno portato oggi ad essere un trader professionista. Allora Sergio, in realtà io spero con questa testimonianza di essere d'aiuto a chi ci ascolta e a chi vuole intraprendere questa professione, però facendola in maniera appunto sistematica e disciplinata perché facendola in maniera differente quello che si rischia è effettivamente di rimetterci molto tempo e nella fattispecie molti soldi. Quindi io direi che come tutti i lavori vanno prima studiati, assimilati, imparati e poi applicati ed è necessario affrontarlo in questo modo perché altrimenti quello che si rischia è veramente delle grosse cantonate. Allora io brevemente farò parlare le immagini perché sono abbastanza eclatanti. Vi faccio vedere questa slide che ho preparato, veramente che non l'ho preparata per voi, in senso l'ho preparata per me diverso tempo fa somministrandola proprio a Sergio nel febbraio del 2021. Ed è un anno di lavoro. Un anno di lavoro sui mercati. Io praticamente eseguivo su una stessa piattaforma operazioni multi-day, operazioni intra-day sull'indice Nasdaq, sul mini Nasdaq, che come sappiamo è estremamente difficile, estremamente volatile. Io mi ero già approcciato con questo tipo di strumento facendo dei corsi. Questo anche è importante, scegliere i corsi giusti è importante perché si rischia di, siccome su internet c'è un po' di tutto, si rischia di andare a prendere delle cantonate anche in questo. Quindi l'indice si sa è soggetto a diverse fluttuazioni e non è certo con un corso di tre, sei mesi che si può imparare a stare su questo tipo di strumento. È un tipo di strumento che mi ha portato ad avere delle grosse cantonate, quindi andando addirittura a minare tutto il lavoro che io stavo facendo già da tempo su altri strumenti che erano appunto quelli finanziari o comunicazionari, quindi single stock, utilizzando un approccio di tipo multi-day. Quindi in intra-day facevo soltanto l'indice. Vi faccio vedere queste immagini, si vede chiaramente quello che è un anno di storia. Un anno di storia, stiamo parlando del 2020. Come vedete c'era una prima parte dell'anno 2020 dove, come sappiamo, poi marzo c'è stato il crollo, insieme al crollo ovviamente c'è stato anche il mio dal punto di vista probabilmente strategico e psicologico perché le condizioni del mercato erano completamente cambiate e in questa prima parte voi vedete un drawdown importante e come vedete sono arrivato a meno 10k a superarli, meno 14 addirittura. La telefonata a Sergio è partita quando sono arrivato a toccato a meno 10k, ma in realtà io già avevo iniziato la masterclass, proprio perché mi ero già reso conto che nella prima parte il galleggiamento non era così entusiasmante e quando ho cominciato ad avere delle grosse perdite ho deciso in quel momento di cominciare con una formazione strutturata, cioè di partire un pochino indietro, di non andare nello specifico, ma di andare sul generale. Qui mi è stato molto utile il percorso della masterclass perché ha veramente dato delle basi solide su cui puoi costruire poi la specializzazione che è venuta chiaramente successivamente e come vedete poi nella successiva parte dell'anno c'è stato un recupero, diciamo, importante di quello che era stato nella prima parte dell'anno, il grosso drawdown. Nella seconda immagine, quello che voglio invece evidenziare, allora la seconda immagine che vi faccio vedere è la prima parte dell'anno, cioè ovvero focalizziamoci sul drawdown. L'ho fatta questa perché si evidenzia molto chiaramente quanti trade ho fatto nella prima parte dell'anno. Vedete 482 più 324 più 9, c'è un'enormità di trade che mi hanno portato inevitabilmente ad avere un forte drawdown. Come vedete la maggior parte sono proprio durante la fase del drawdown proprio perché c'era un atteggiamento di voler recuperare le perdite, cosa che è fondamentale di non fare, ma per fare questo ci vuole diciamo un percorso strutturato che ti dà le basi solide per poter poi gestire queste fasi, soprattutto dal punto di vista non tanto tecnico quanto dal punto di vista psicologico. Nella terza immagine vedete invece l'equity line completamente verso il verde e guardate la quantità di trade che è stata fatta, cioè ovvero veramente minimale, forse un terzo o un quarto della totalità dei trade fatti nella prima immagine. Questo ha testimonianza che la solidità poi della formazione ti porta poi a selezionare meglio lo strumento e a gestirlo nel modo più opportuno e confacente in base a quello che è l'attuale situazione di mercato. Insomma, io qui vorrei francamente chiudere con questa frase che avrete già sentito dire da Alessandro e da Sergio più volte è se la formazione costa tanto, allora provate a farlo con l'ignoranza sicuramente vi costerà molto di più perché come vedete nell'immagine iniziale andare sotto di meno 15 non è proprio facile da digerire a messo che uno abbia un capitale importante a gestire ma è proprio lì che bisogna stare attenti cioè che sia un capitale grande o che sia un capitale piccolo poi la gestione rimane la stessa ma è fondamentale avere delle basi solide di formazione e in questo mi sento di consigliare un percorso strutturato all'inizio e poi andarsi a prendere le proprie scelte quindi di specializzazione in base alle proprie inclinazioni psicologiche e in base a quello che vogliamo diciamo approfondire. Io personalmente poi ho approfondito il corso sugli ETF fondamentale a mio avviso per un discorso di lungo termine e poi con Sergio la parte dell'intraday per quanto riguarda l'approccio swing e poi l'approccio intraday sul mercato azionario. Certo, questo Andrea è importante perché tu anche appunto nel rapporto con me sei stata una persona multidisciplinare perché sei partito con una formazione da analista tecnico per risolvere il tuo portafoglio titoli che diciamolo, quanti ne avevi di titoli? All'inizio ho superato abbondantemente le 200 unità quindi considerate che avevo delle micro sites delle micro sites addirittura di 200 euro 150-200 euro di sites cioè che folle no? Vabbè poi capirete perché durante il corso Ma questo per dire no? Perché siamo nella telefonata appunto mi avevi parlato anche di questo portafoglio titoli ma non mi avevi detto all'epoca quanti titoli effettivamente avevi e quando io ti ho detto che magari un nostro portafoglio azionario in media ti attiene più o meno magari arriva fino a 20-22 Oggi ne ho 26 Ottimo, quindi piano piano ti sei andato a gestire con le tue competenze, con gli approcci strategici con lo studio della disciplina ti sei andato a gestire tutta questa parte di titoli quindi hai messo insieme delle competenze multiday quindi date sostanzialmente soprattutto dalla disciplina dell'analista tecnico che si apprende durante la masterclass tra l'altro nella masterclass c'è proprio anche l'approccio psicologico è sempre ovviamente affrontato così come la gestione del capitale e la gestione del rischio queste tre componenti subito ti hanno dato la possibilità di mettere un freno o comunque un sistema di allarme per quanto riguarda la gestione dei tuoi titoli nel multiday da lì poi ovviamente il percorso dell'intraday è ancora più complesso ancora più delicato richiede anche ancora più tempo e da lì è nata la specializzazione quindi tu sei in realtà una testimonianza non solo per la parte di analista tecnico ma anche proprio per l'essere trader e il diventare trader perché poi l'analista tecnico può rimanere sulla parte più della teoria della formazione ma può anche essere poi sulla parte effettivamente più operativa e si può specializzare letteralmente in quello che vuole e tu ne sei una testimonianza perché da analista tecnico e appunto gestore del tuo capitale come portafoglio ti sei poi andato a specializzare nell'intraday separando anche le operatività quindi disciplina conti uno per una cosa uno per un'altra attività il fatto che mi hai presentato la tua equity quindi il tuo diario di trading dove hai tirato le somme quello che fa ogni professionista nel suo lavoro alla fine dell'anno quindi tutte queste piccole cose le sottolineo perché vanno veramente a testimoniare la qualità comunque aver preso le competenze averle messe insieme aver creato una routine una giornata tipo tua che concilia comunque lavoro, famiglia e più attività di trading perché comunque tieni a bata un tuo portafoglio nella sezione del multiday sei diversificato con l'intraday eccetera quindi chiaramente quando si trovano elementi come te che non sono poi così rari ma quando si trovano ovviamente bisogna fare un lavoro molto molto di fino e soprattutto richiede molto tempo però poi alla fine i risultati sono veramente interessanti e secondo me è giusto condividerli ed è la tua parola sicuramente molto più efficace della mia che ti posso raccomandare in millemila modi di studiare ma il fatto che te lo dice una persona che nell'arco di un anno e mezzo di studio e un altro anno e mezzo di pratica duro lavoro e ricerca sperimentazione ottiene risultati secondo me vale molto di più appunto la tua testimonianza che la mia quindi io ti ringrazio veramente di cuore per le parole per il tempo e anche appunto per la condivisione della tua equity personale che è una cosa che non tutti i trader fanno con tanta facilità quindi grazie di cuore Andrea per il tuo tempo grazie a te Sergio grazie a te Sergio a tutto Investor al team meraviglioso che siete e da questo punto di vista massima stima e fiducia assoluta alla grande ti ringrazio ciao Andrea ciao un abbraccio è sempre un piacere riascoltare le parole di Andrea ed è sempre preziosa la sua testimonianza e dal mio punto di vista è inutile avere tante piccole testimonianze che ti dicono beh è un bel percorso mi è servito tantissimo oggi sono un'altra persona piuttosto che invece una persona che realmente ti racconta ti fa vedere ti racconta anche il suo stato d'animo e tutto quello che è stata la sua evoluzione come Andrea tantissimi altri nostri studenti della Masterclass hanno raggiunto questa possibilità e sanno che cosa devono fare perché hanno tutta una formazione professionale che gli serve per procedere su questo tipo di cammino mi raccomando in descrizione c'è il link per questo tipo di percorso per tutte le informazioni Masterclass analista tecnico sono sicuro che questa testimonianza ti sarà stata utilissima mi raccomando condividila anche con un tuo amico o una tua amica che vuole intraprendere questo percorso professionale nel mondo della finanza e non sa magari da dove cominciare mi raccomando lasciami un like nel video scrivimi nei commenti che cosa ne pensi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao